Darks con il Glacial Augment Va bene Shen con l'Ignite E il Grasp A casa A casa A casa A casa Il resto è tutto abbastanza corretto devo dire Sono fan di Fieric lo conosci? Conosco Fieric ma in genere i suoi fan hanno il sub Quindi evidentemente è questione di povertà Fai parte della poveranza Quindi perché a sinistra l'hai scritto porno a Torre e Sebalo Quando lo capirai Sarei più grande Sei troppo piccolo per capire queste cose Nella nostra Italia non c'è spazio per i campi rom In realtà era un sub Era Ero Peggio Ah quindi addirittura traditore Platino Addirittura traditore Grifteria del Tron Sui Void ok Va bene Devo anche ricordarmi di rifare Di rifare il sub Al Sissio Sa che non ha visto la reazione dei cazzi su Pornhub Penso proprio non abbia visto la reaction ai cazzi su Pornhub ragazzi Cercate Sexy Freak su Pornhub Tanto sicuramente ci è andati tutti i giorni su Pornhub quindi non vi costa nulla farlo adesso Freak perdona o non sa quello che fa Sessant'anni ovviamente per iniziare la partita come sempre Che bello che bello che bello Ce l'ho tutti i giorni più una volta Allora guy brush Ormai lo conoscerai a memoria il mio video Allora Perfetto Ok ok Allora Ovviamente startiamo con l'antra Salisman E la refillable potion Let's go let's go Buonasera Bertra Bentornato nella Fierix Army M L M L M L M L K B L L K B L L L Grazie mille del re sub bello Bentornato ti dedicherò Ti dedicherò un buff rubato Solo per questo tuo sub va bene Ti faccio vedere come funziona Spero che non ci sia nessuno qui dentro Minions ha spawned Tarantolax Forse devi aggiornare la pagina e cliccare sul tasto condividi Potrebbe essere Facciamogli capire che devi pullare Ma non pulla No Tattara 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 Aiuto Guarda un batto che ho sbagliato Thanks bot Mi ha proprio incazzato questo E lo? Ecco Ma Lucian veramente è rincoglionito Ecco! Posso andare back GG grazie 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 Sì sì è proprio come sembra esatto Esatto E' proprio come sembra Ok Tarantolax! Quattro mesi Bentornato nella Fierix Army Tarantolax Sono tornato merdo Grazie mille il tuo sub Oddio Ma spottavo che Ma aspettavo che almeno provassero un pelo a doggiare Invece niente Vabbè Grazie il quarto mese Bentornato nella Fierix Army E' ok ok Abbiamo reso tutto il più spicy possibile Non è possibile Esco a farmare un pochino Beh oddio non è così facile Ok Cazzo però c'era il granchio adesso Non ci ho pensato Il granchietto Eh sì non faccio più soldi Inutile che farmo Non devo usare quello di quello smite G-I-D-A-N-1-K-K-E-R-D-X-500 Meritatissimi Grazie mille G-I-D-A-N-1-K-E-R-D-A-N-1-K-E-R-D-A-N-1-K-E-R-D-A-N-1-K-E-R-D-A-N-1-K-E-R-D-A-N-1-K-E-R-D-A-N-1-K-E-R-D-A-N-1-K-E-R-D-A-N-1-K-E-R-D-A-N-1-K-E-R-D-A-N-1-K-E-R-D-A-N-1-K-E-R-D-A-N-1-K-E-R-D-A-N-1-K-E-R-D-A-N-1-K-E-R-D-A Se per così lo smaitavo. Oh! No, stai qua. Good. Guardate quanto mana recupero in giungla. You fucking trash stay mid, what? Perché ce l'ha con me? Oddio. Quel dash non me l'aspettavo. Lo ammetto. Mi ha davvero stupito. Vado di qua! È l'ho! Predicted. BG, ma qual è il loro problema? Perché sono tutti incazzati? Ma siamo 5 a 1. Bonobo! Buongiorno, caro. Come stai, signor Bonobo? Sei venuto nel game giusto? Sono tutti incazzati neri per qualche motivo. E questo ci rende molto più felice. Signor Bertra, oggi... No, perché dopo questa devo staccare che oggi... Cioè, li ritrovo con i vecchi compagni di scuola. Penso a te. Se ovviamente io ho 5 kill participation su 5. Ecco. Niente. Sta partita non sa da fa. Io non posso anche farmare perché sono indubbiamente quello con più soldi di tutta la partita. Perfetto. 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 Oh, mandatevi un'affanculo Vabbè, raga, ma Che dire Ma meno male che ci so io, guarda Ma te lasciate stare Oddio, non ho lo smite Non so se me lo faccio senza Sì Sì Grazie mille Fristi dei cheers Benvenuto nel club delle ruspe Non sono riuscito a rubare, purtroppo Non mi è stato concesso Da San Gennaro San Gennaro ha detto Hai rubato abbastanza in sta partita Basta così Peccato Non ho lo smite Apprezzo l'impegno Beh, meno male Meno male Apprezzo che tu apprezzi l'impegno Vediamo se esco A fare qualcosa a botta adesso Uh Buono No, Lucia, impazzo Bella Thinker Ma ci siamo salutati prima Scusa Oh no, stia pure qua lei Ok Ok Vabbè, ci abbiamo provato Buona ulti WP Eh sì, sì Non penso ci sia ancora il blue buff Ovviamente, però Oh, ma è proprio forte sto blue buff Ragazzi Grazie Prendo io allora Ecco, visto Tutto calcolato ragazzi Poi almeno sono un blitzker Anche lui come Kha'Zix Diciamo che è un po' più un barzano Non ci sono più i blue buff di una volta Ai miei tempi non erano così forti L'avevo fidato È vero, è vero L'avevo fidato io Le Inaspettato Nerf blue buff Ferito, please Ma Kha'Zix ha ancora il 4 È il 4 Oddio, oddio, oddio Kha'Zix è completamente fuori dalla partita 10 kill participation su... Eh, adesso 12 Purtroppo killano senza di me Che sta facendo quello? Non c'è red buff Posso andarmi? Mannaggia, avevo smaitato la torretta Ma non è bastato Ok Eh, va benissimo A casa Ho dimenticato un mese Chef kiss Voodoox Quattro mesi bentornato una Felix Army Bentornato bro Oh cazzo Oh, più G Dai, prendiamo le plates Pure questi sono soldi Eh no, Nicola Molto male Allora Boom Cioè, guarda Lucian è un stoppable Grazie a me Tutto grazie a me Ragazzi No, Regello L'uno o l'altro Comoda la vita Altrimenti Dimitri sottolineato In lunga Sottolineato Ha sottolineato XK Reynix 900 Non mi grabbi Figlio di puttana Insegui qualcun altro La prossima volta Dimitri Grazie mille Dei cheers Mamma mia Ma l'hai sbloccata adesso La ruspa O ce l'hai già Dimitri Grazie mille Grazie mille Bello mio Che supporto Ma allora gli sta piacendo Sto Napoli Crank qui Ma comunque Sta partita è spettacolare Sta partita è spettacolare Lui Ah, mi sa che Badomma È andato a AFK lui È andato a AFK KazX Proprio L'ho cancellato Dalla partita No, è lì È al 6 Mamma mia Botte di ferro Se la neve viene sotto casa vostra No, va lì È al peccato Non può piacervi Da soltanto fastidio Stanno 1716 Non ho capito tutti sti danni Da dove sono usciti Però vabbè Amen È sempre così Prendi Prendi il Mejai Perdi le stacche Beh che ne avevo 5 Adesso ne ho 4 Quindi in realtà Va bene uguale Non ci ho perso poi molto Jax sta andando a P Lama du Congo Statismo si chiama Lama du Congo Oddio È vero C'è un Jax AP ragazzi Meraviglioso Meraviglioso C'è un salto top Guarda pure Lucian Ha risvegliato le sue origini È andato a rubare Bravo Lucian Bravo Mannaggia Jax Potete aspettare Tancassi un po' io Vabbè Guarda Legendary grazie a me Tutto grazie a me Ha fatto double K1 v2 Per quanto Per quanto L'ho fatto fidare I have the best team ever Facina triste Adesso con calma 1-1 killiamo Tutti Tutte le roccine Qua Prendo questa Bella Domi Che triard Ragazzi Però anche voi Lasciate che ve lo dica Questo è triard Quello vero Vabbè Però Jax è AP Quindi è perdonato Riesco a vendicare Riesco a vendicare No? Brum Eh figlio di puttana Hello? Jax e Roni Vabbè Sarei 2000? Sì esatto È uno che se noia È come la Come si dice È come il jump Di Tristana Cioè l'interazione Così non ci si può fare nulla Cioè se tu grabbi Tristana Dopo che ha Fatto partire il jump La grabbi Poi parte il jump Lo stesso La stessa cosa È per Nautilus Certo Gold Sono sempre pronto Per i miracoli Specialmente Se sono quelli Di San Gennaro Vai Ho i soldi Ulti al 2 Spellbinder Ormai Fa tutto da soli È l'entrato autonomo Non ho fuoco alle tende Non lo so Anche se non le ho le tende Non ho fuoco alle tende Cazzo Il generale lo spawn In giapponesi Cosa c'entra? Cosa c'entra In giapponesi Scusate Riscatto non è uscito Cosa? Oddio Minchia è all'otto Completamente Cancellato Dalla partita Eh Se è pulito Sparisce Ah Quello Intende Corrigere Non capisco Spawne Giapponesi Però Ho capito I troll because we lose Ne sei convinto? Non è che trolli Perché fai effettivamente schifo Chi lo sa E' continua Meraviglioso Meraviglioso Darius trollo Esatto Io trollo Perché Perdiamo Tanto Io Do l'onore a Lucian Anche se Mi ha insultato all'inizio Però lo capisco Alla fine è cresciuto Ho imparato a camminare Con le sue gambe Ok 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 S più su blitz Karank Minchia C'è Ragazzi Guardate Come ho cancellato Il jungler nemico Guardate Come l'ho fatto Andare via Dalla partita Proprio E' sparito E' completamente Sparito Due morti Di cui una Blue buff E una In 1v2 In botly Sarai io un capitano Si Quello è andato Addirittura Afk Nel dub Pene di Ahmed Pisellate dovere Bellissimo Ragazzi E' un'altra E' un'altra